Ho più di 40 milioni di follower, ma nessuno sa veramente come mi sento. Quest'anno ho vissuto i momenti migliori e peggiori della mia vita. La vita è dura. La vita va avanti. Ho una ragione per andare avanti ed essere forte. Chris mi ha aiutata molto a rispettare i miei impegni. Mi ha detto, continua la tua vita, ti farà bene. Ora la mia priorità sono i miei figli e la mia famiglia. Sono molto contenta e grata. Tesori, sono tornata. Ultimamente è molto difficile sorprendermi. Facciamoci una foto con la mamma. È molto premuroso e buono con me. Cristiano è l'amore della mia vita. Ma non ho trattenuto la pancia. Ti piace il ciò riso? Sì, mi piace. Oh, attenta! Come stai? Guardo sempre il tuo reality, lo adoro. Sono sempre io, ma diversa. Per me il lavoro è necessario. Mi sento una super mamma, una super donna. Sono una mamma, una sorella, un'amica, una donna. Sono Georgina. Per me il lavoro è yogurt, la prima. Ciao ciao!